Abbiamo una maxip restore funzionante, non abbiamo ancora capito perché abbiamo una maxip restore funzionante, però adesso possiamo costruire la tip build, che è l'operazione che ci trasforma il vettore originale contenuto qualunque permutazione abbiate in testa, in una permutazione dei valori originali che sia un albero maxip, quindi a1n vettore da ordinare. Ora, se voi prendete i nodi dell'albero, che sono posizioni nel vettore, che vanno da n mezzi intero inferiore più 1 fino a n, queste sono sicuramente foglie. Il motivo qual è? Ah, n ovviamente è la dimensione del mio vettore, ok? E quindi l'idea qual è? Che se io prendo n mezzi più 1 e lo moltiplico per 2, questo è il figlio sinistro di n mezzi più 1 intero inferiore più 1, allora se è pari, n mezzi è uguale, intero inferiore è uguale a n mezzi, ok? E quindi questo mi viene 2n più 2, ok? Se invece n è dispari, allora n mezzi intero inferiore per 2 è uguale a 2n meno 1, perché mi sono perso un mezzo per 2 che deriva dall'intero inferiore, più 2 che deriva da questo più 1 per 2, e mi viene fuori la casella 2, scusate non 2n, n più 2, e qui mi viene fuori n più 1, ok? Scusate, n mezzi moltiplicato per 2 viene fuori n, non 2n. Quindi sia n più 2 che n più 1 sono fuori dal mio vettore, ok? E quindi non sono pigli di n mezzi intero inferiore più 1. Quindi n mezzi più 1 è una foglia. Siccome tutti i nodi successivi hanno valori di figlio sinistro, figlio destro ancora più grandi, e questo deriva dalla nostra completezza dell'albero, quello che vi ritrovate è un albero in cui tutti questi elementi sono foglie, ok? Quindi quello che facciamo è una cosa del genere. Se tutti gli elementi in basso sono foglie, allora sono anche già maxip, perché una foglia è un maxip naturale. Quindi se io dopo vado a vedere nel nodo che sta sopra, questo, questo è l'albero che ho in mente, allora qui n è uguale a 7, ok? 7 diviso 2, 3.5, intero inferiore, 3, più 1 fa 4, 4, 5, 6, 7, intese come posizioni, sono foglie, vero? 1, 2 e 3 sono non foglie, ma io posso chiamare la maxip restore su questo albero qui, perché i suoi figli sono foglie e sono maxip. Quindi posso chiamare la maxip restore su ognuno di questi nodi, però vado in ordine inverso, perché? Perché prima farò 3, poi farò 2, a questo punto entrambi questi sono maxip, e quindi posso chiamare 1, la maxip restore, e ottenere tutto il risultato corretto. Quindi il codice, una volta ve lo faccio prima, per esempio che viene dopo con i numeri, è da n diviso 2, intero inferiore, quindi la prima non foglia, fino a 1, andando indietro, chiama la maxip restore di cosa? A, il mio vettore, n è la mia dimensione, non cambierà mai, e i, che è l'indice che man mano arretra. Quindi, se io lo faccio, lo faccio sull'albero, di nuovo per chiarezza, cosa succede? Che tutto quello che vedete in salmone è già un ip, tutto quello che vedete in giallo devo verificare che sia un ip. Quindi, siccome qui abbiamo n uguale a 11, n mezzi è uguale a 5, ovvero devo partire da qua. A questo punto chiamo la maxip restore su questo, il nodo in viola è quello attualmente considerato, 15 è più basso di 25, quindi devo fare uno scambio, cioè 25 è il massimo fra 15, 25 e 16, quindi devo fare uno scambio, e mi ritrovo in questa situazione. Una volta che ho fatto questa operazione, la maxip restore è completata e questo è un maxip. A questo punto lo chiamo su A4, c'è un 34, non ho nulla da fare, scusate, sul 34, perché è già un maxip, perché 34 è maggiore o uguale di 30, 21, e quindi posso andare avanti, chiamo 28, sono ancora a posto, ok? Scusate, un esempio semplice, e poi chiamo su 45, sono ancora a posto, mi sono tenuto, diciamo, il casino finale sull'ultimo, perché quando chiamo su 14, non va bene, quel 14 è più piccolo, di 45, è anche di 28, ma io sceglierò 45 come massimo, quindi faccio lo scambio, a questo punto il 14 è più piccolo, di 34, 25, 34 è il massimo, faccio lo scambio, e poi è più piccolo anche di 30, e di 21, e quindi vado a scambiarlo con il 21, lo metto qui, e alla fine ho un albero maxip, è tutto diventato colore salmone, diciamo, ok? A questo punto, se mi ricordo bene, ah sì, correttezza, la faccio un attimo, all'inizio di ogni interazione del ciclo for, i nodi che vanno da i più 1 a n, sono già radice di 1 ip. Allora, all'inizio, i è uguale a n mezzi, e noi sappiamo, e abbiamo dimostrato qui, l'avevo detto prima, ma lo ripeto qui, che n mezzi più 1 deve essere necessariamente una foglia. Se non fosse, i suoi figli sarebbero n più 1 oppure n più 2, perché se vado a moltiplicare, a calcolare questo, ottengo o n più 1 o n più 2, e questo è assurdo, perché n è la dimensione massima, e la dimostrazione vale poi per tutti gli indici successivi che abbiamo detto. Ok, quindi all'inizializzazione del mio ciclo for, ricordatevi, è un invariante di ciclo, quindi devo dimostrarlo, sul, sul, il primo valore che assume nel ciclo, che è quello che trovate all'inizio, non so, for, i uguale n mezzi, intero, inferiore, down to, 1, quindi questo è il valore iniziale, e l'abbiamo dimostrato. Poi, in variante di ciclo, dobbiamo dimostrare che si conserva, e la dimostrazione deriva dal fatto che è possibile applicare maxi per store al nodo i, perché 2i, minore o uguale di 2i più 1, minore o uguale di n, sono entrambi radice di uno ip, e da quel momento in poi, tutti i valori successivi sono radice di uno ip, perché tutti quelli che sono dopo sono già radice di uno ip. Quindi, al termine dell'iterazione, anche i sarà una radice di uno ip, quindi nel momento in cui vado a fare i uguale i più 1, la proprietà è, scusate, i uguale i meno 1, perché sto facendo un down to, la proprietà è rispettata al nuovo rientro del ciclo. Poi, di nuovo lo scrivo, ricordatevi che ho for i che va da n mezzi down to 1, questo ciclo esce quando i raggiunge il valore 0. quindi, quando io raggiungo il valore 0, questo significa che tutti i nodi da 1 a n sono radice di uno ip, quindi ho appunto uno ip. Questa è la conclusione che nelle varianti di ciclo devo dimostrare qualcosa di ip. Ho uno ip. Ok. Allora, avete capito questa dimostrazione? e me lo dite lì. Io intanto vi faccio il secondo poll, che è questo. Qual è la sua complessità? Qui vi do un attimo più di tempo. Ok, siamo circa a due terzi. ovviamente questo è una domanda trabocchetto questa volta, nel senso che voi avete scritto teta di n log n, notate che ho messo teta e 79%, qualcuno ha messo teta di n, potrei, se fosse in classe, vi chiederei perché l'avete fatto, ma non vi infliggo questa cosa online. Qualcuno ha messo n quadro, quello è veramente troppo. L'idea è che, fatemi stoppare lo sharing, l'idea è la seguente. Io posso calcolare il limite superiore e questo è correttissimo. Cioè, se voi mi dite che è uno grande di n log n, io vi dico, bravi, perché? Perché se questa è uno grande di log n e questo è ripetuto n mezzi volte, allora tutto ciò è o grande di n log n. Ok? Siamo d'accordo. Però è un limite superiore. Ok? Se io vi chiedo, ma è anche omega di n log n? Non lo sapete da quello che abbiamo detto in questa slide prima, perché io vi ho detto che è uno grande di log n. non z di log n. E quindi l'idea è la seguente. Le operazioni di maxip restore vengono eseguite un numero decrescente di volte su ip di altezza crescente. quindi prima le chiamo su n quarti ip di altezza 1. poi le chiamerei fra virgolette, ma in realtà non lo faccio, su n mezzi ip di altezza 0, cioè le foglie. non è che lo faccio, potrei anche chiamarle, ma non so, ovviamente, totalmente inutile. E poi lo faccio su n ottavi ip di altezza 2, perché l'idea è che se voi partite dal basso e andate verso l'alto, qui avete n mezzi intero inferiore, qui avete n quarti intero inferiore, e qui avete n ottavi intero inferiore. E l'idea generale è che a livello h, lo chiamate su n su 2 alla h più 1, a questo punto, non vi spiego tutto questo, però c'è questa proprietà, una delle varie serie che esistono, che ci dice che la sommatoria per h che va da 1 a più infinito di h per x alla h è data da x per 1 meno x diviso 2. 1 meno x al quadrato per x minore di 1. Siccome io vado a prendere questo oggetto e quello che succede è questo, che c'è questo valore h, cioè n su 2 alla h più 1, che ho già, per questo c'è il minore uguale, ho già messo il fatto che stiamo considerando un intero inferiore, n è indipendente da h, può essere portato fuori, h va da 1 a log n, perché per h uguale a 0 non dobbiamo eseguire nulla in realtà, ok? E quindi ci viene fuori questo, un mezzo per h più 1 per h, che non è esattamente questa formula, ma io posso portare fuori quel h più 1, cioè quel più 1 nell'esponente, come un fattore 2 da portare fuori, quindi mi viene fuori n mezzi, e a questo punto ho esattamente la formula che vedete qui, quindi ho un mezzo diviso 1 meno un mezzo al quadrato, che è uguale a sostanzialmente 2, ok? Quindi perché è un mezzo diviso un quarto. Questo è il valore 2, qua c'ho n mezzi, viene fuori n, in realtà è possibile dimostrare che è un O grande di n, la complessità vera di questo oggetto, e a questo punto è facile dimostrare che è anche un'Omega di n perché c'è un ciclo 4 che va da n mezzi a 1 all'indietro. Grazie a tutti.